Ancora la cascada, e parla, che cosa è lì? Un rovinetto? Ecco la cascada, no? Sempre quell'acqua, una ponte, ecco qua, scende, 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 mio uomo non vuole parlare perché non vuole, ecco, che volete di più? L'acqua, guardate lì che una cascada, sì che ci vede, certo, montagna sopra, oh, sono mille metri qua, quella che è importante che abbiamo filmato, adesso stiamo andando alla macchina perché dobbiamo prangiare, eccoci qua, ciao, stiamo scendendo, madonna, amore perché non parli, dai, eccoci qua, ciao.